Ripartiamo da dove avevamo lasciato raga e andiamo verso il sesto luogotenente perché poi ce ne saranno ben tre nel distretto sud E vedete che Firenze piano piano sta tornando nel suo colorito originale E penso che i più difficili li abbiamo fatti sapete Santa Maria un fiore Così me l'interrompe Estremi conforti Ok credo che non bisogna farci vedere Eh appunto Certo ho usato un italiano veramente spaventoso nel brutto senso della parola E siccome spillera di guardi dobbiamo farci molta attenzione Una si può fare fuori così Lui sta camminando verso qua Fuori Che uccisione è questa signori Merda Me ne ho mica accorto Allora c'è da fare così Ma lui cammina sul cornicione Perfetto Dove riuscire ad arrivare Ma il cazzo fa a non vedermi lo sa solo lui E invece mi ha visto Non posso né scendere né salire Né scendere né salire Né scendere né salire Rimango qua Cheat Allora cazzo fa a non vedermi lo sa solo lui Cazzo fa a non vedermi lo sa solo lui Madonna che sfida che è Fammi uscire dal campo visivo ti prego Ok Dov'è il mucchio di fieno? Lì Praticamente sistemato lui Siamo a buon punto Però ripeto sistemato lui A posto Queste di stealth sono le più belle Ma anche ovviamente le più difficili Se no non sarebbero di stealth Perché quando c'è combattimento aperto In Assassin's Creed Non hai problemi Boom A posto Libero C'è uno qui Che va giù Siamo a buonissimo punto Adesso pronti di averampicato Eh sì Che bello Quando con delle missioni vogliono mettere in risalto I monumenti della città È una cosa bellissima Ovviamente adesso Ci sono le guardie da uccidere No? Mosso cazzi Mosso cazzi amari Ok Ok Aspetta che l'altro arretri E affondiamo la lama Perfetto Preciso Ineccepibile Pensavo Che gli predicasse la parola di Dio Temo fossero menzogne Ho condotto il mio greggio fuoristrada È solo che Avevo un bisogno così disperato di credere Tutti l'abbiamo Vedrò al fine compiuta l'opera di mio padre Requiescati in pace E estremi conforti Se ne va Sei su nove uccisi